Il Veneto è l'unica regione in Italia a non applicare ulteriori tasse rispetto a quelle previste dallo Stato e obbligatorie per legge. A ricordarlo con una punta di orgoglio il governatore Luca Zaia durante la presentazione della manovra di bilancio in Consiglio regionale. Ma per i consiglieri del PD si tratta di una scelta sbagliata. Ha prodotto disuguaglianza, ha fatto diventare i ricchi più ricchi e i poveri più poveri, quindi non ha portato beneficio alla comunità veneta. In dieci anni i Veneti a rischio povertà sono aumentati di 140.000 unità, sostiene il capogruppo democratico Stefano Fracasso, mentre le differenze tra il 20% più ricco e il 20% più povero sono cresciute. Se gli chiedessimo ancora di pagare 2.400 euro per un anziano in casa di riposo, io credo che i Veneti sarebbero disponibili a chiedere qualcosa a chi ha di più, a chi ha di più, per sostenere chi ha meno. Secca la risposta dai banchi della maggioranza. Il capogruppo leghista Nicola Finco ricorda la pressione fiscale già pesantissima a cui sono sottoposti i cittadini e imprese in tutto il paese. Respingiamo con forza, scandisce, l'idea di mettere le mani in tasca ai Veneti. Questa è una follia, soprattutto in un momento di crisi come questa. Noi in questi anni abbiamo avuto la capacità di ridurre le spese, di fare delle economie di scala per continuare a mantenere i servizi senza applicare una nuova tassazione, a differenza di tutto il resto d'Italia. È una linea che il Governatore ha voluto portare avanti negli ultimi otto anni e sicuramente porteremo avanti fino alla fine legislatura perché al momento i nostri bilanci sono solidi e quindi finché possiamo continuare a mantenere i servizi senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ovviamente noi continueremo a farlo negli interessi dei nostri contribuenti e dei nostri Veneti.